Musica S'entrata da su goccio aiuto da su scuffrades a sacrezia dei stampaggi sa consigna da su spanderas a sui squadroni dei sur milizianos che hanno escoltato a Sant'Effis cara a Nora Su passaggio a posti di una professione aperta da Salla Unedas desa Pandera, desue tre il Bardiano, Riccardo Rocca, Assunobu, eletto prosudo a mezzo e binti battoro Fabio Rais, chino este, resessio, attrattenne sa lacrimasa Il stampagino predale ha tesserisso a ghiare totus ormamentor des omaggio a su Martire Guerreri Chincusto primo cerimoniale esaperiti a manera ufficiale esai 368 edizioner desa Vesta des Anteffis Lunir 29 assasser desero anabestire su simulacro a festa Marti strinta la naponne stottus oraria esos ex votu e anannarressa missa de intronizzazione desistato a su goccio Unutem pur fini ritos privao schicolande esutempusu anabidu partecipande sempes prurzente a testimoniare sa devozione manna desa cittade de casteddu a susanto amparadori suo Rito solenne sinantir desa Vesta, proesorbe su votu e sa professione de prima die de maio Chitele Sardegna ta trasmittir in diretta desa nove mesa de Manzano Kinsu commentu de Andrea Frailis Sakide scuminsada Kinsanoba desa presentazioni de una lista civica Ghiada de Paola Medda, ex assessora desa giunta de Massimo Zedda Da esu duamize batordiche a su duamize de Kenobo e presidente d'Italia Viva In appoggia su candidau desa coalizione de centro-sinistra sindicu de Casteddu In acabu de Chida arriva sa cordu che in azione de Carlo Calenda Allo dare eschira erzedda a Mattessi che in una nota de imprenta So traballande pro furtiare sa coalizione Dar a Casteddu un ubinidore nobu de pa che traballo e creschi da civile e economica Procusuo a prezio si se per ude azione de appoggiare su programma desa coalizione Sa candidatura mea che in una lista propria annau Zedda Sa risposta desor 5 stelle no atti stentau a ribare Chi comente deciso de Giuseppe Conte anna bozzau in campo nazionale Cada possibili accordu che in Italia vive azione Massimo Zedda e a prosa Mattessi resone rinunziava a si confrontare Che in Renato Zoru Sapoggiude azione naschide su vattu chi su partiu de Massimo Zedda Atarra di Kinar fungu da armescamenti in sa città de De Casteddu Besu movimento 5 stelle Vranco Alessandra Tord enuata con senso ormeda Un attiro corfo mezzano a sar fondamentar de sa sanità de Nugoresa a Zai a Punto Malu Sul reparto de pneumologia des ispidale zonchello de Nugoro Uno presidio che i promedas hanno se stistano punto di riferimento Pro su territorio de su centro nord Sardigna Abidus organico in nanti scolande da ed è che i duttores abbattoro e trappacuano a diventare trese Allù d'innunziare i sucusizieri regionali Sebastián Cocco de Uniti per Alessandra Tord E' spossibile di fattischi scurrenese a gradatoria Uno de esos operadores Che l'utramude ne ha sa azienda ospedaliera universitaria de Tattari Che in organico ha zai 22 orduttores Procuso Coccat iscritto una litera sa presidente de esa regione Tord E sa assessore regionale a sa sanità de Armando Bartolazzi Pro evitare i sucusizieri mutit una vura a sa sanità de Nugoresa Un altro problema in annanta totus osateroso de custa sanità de Agotiperada In Nugoro che in sorduttores chisi che vughi nata Tattari a Castello Er de custa sultima schida sa tancada desu reparto di ortopedia E su prontosucurso chiata pezzi che in veduttore er desorde che otto previdioso Sa Sardegna si confirmato una desa regione sprullestra spaccandese o straballos pubblicos a sa ziendas In su due mezze 23 so scomune sardo sampa causa straballos Che in duna media dei vinti battordiese Fatto che permitita sa ziendas de non si indebidare che in sar bancasa Fabio Mereo presidente e Daniele Serra Segretario regionale del confartigiano Sardegna Sottalini hanno a chi è spreciso a si impinnare e a paccare entro su temposi stabiliu prolezze Sa s'impresa sartesana nostra nana non si poden permitere De esettare su pacamento desa fattura stropo temposo Che sa spuru depene rispettare su calendario deso spaccamentos e deso scontributos assi stado Su nume da sos comunes però chi pacana rispettando esasi scadenzias De medas annos confartigiano e stimpinano a fortiare esa normativa con crui Serra Pro contrastare su ritardo in sospaccamento Or desas amministraziones pubblicas a sosprivaoso Pro 60 atleta a decada edade a ribor de totusa Sardegna De su Veneto e de su Vriuli Chisandau appuntamento in sa palestra desi scola media Ettore Paes de Terranova Su occasione stistada sa sicunda edizione desu trofeo Gallura dei Scherma Organizzau desa polisportiva Porto Rotondo Chisandau patrocinio desu comune de Terranova Una manifestazione chinotto categoria ar maschiles e femminilesi Di una gara open che si sta ad asoccasione Pro un upore diamantioso Chi ha napotiusi chi resa scompetizioner dai manzano E per i prova che sconoschera sa città di un esport Togalu pacu praticao